... è di colui che voleva riparare il partito dell'amministrazione, di dare un altro modo da male, di avere uno sportello unico che si è dire ai centri dei cittadini. Oggi vieni in questo senso a Stato a consigliare e vieni che è diverso da quello che è il mio signore. Hai detto che stai strutturando il NAS e votavano tutti i cittadini, portando il scatto di Orgola. Ti dico, lo scatto di Orgola, se veramente si vuole fare questo Consiglio Comunale è che tutti quanti a sì, non gli faccio una promozione, tutti quanti a sì, dobbiamo votare, non è che questo momento. Tutti quanti a sì! E' stato un tipo di votare veramente i cittadini che la sua mangiare cittadini, ma non è anche allora spesso dibandingare il vostro Francesco e di difficoltà. Al relato tutti voi che partiamo adesso con Tomás d lä whova, allo kasih 광ali, qualsiasmo denotale San Paolo per la cuente desubirda e quindi ci stai, inom evaluations per tengono laԲ autore ferro, ora è una persona che aiutano esporti, con il verbo farlo con lui. Allora è tutta verso della generazione. a faccio sospendo la tutta, che in questo e in questo e in questo progetto è un progetto, ma questa soluzione è possibile tanto e vero e vero, sospendo la tutta. E' un po' di risposta con il mio parere e assoluta. Io non ho vissuto il suo nazionale, un nuovo consigliare in me, e ora ti schifo, e guardate no. Per!... Ma si uscita.... E arrivino, e imparate nel mio carattere 전 fine che piene anche da un po' di risco Era un po' lyrics Di tutto, ma lui è il progetto e da un po' di risco Grazie